Noi abbiamo capito che la cosa più importante che è nata con la rivoluzione francese non è la carta costituzionale, è la banca centrale, perché i popoli sono stati trasformati in vacche da mungere. Oggi chi più lavora più si indebita. A me mi fanno ridere i politici che dicono io ti voglio dare un milione di posti di lavoro. Scusa, questo ragionamento è un ragionamento che non regge, perché io voglio sapere quando lavoro di chi è la proprietà del salario che mi mette in tasca. Quando l'imprenditore mi dà un salario con un debito pari a tutto il denaro che io mi metto in tasca, a me mi passa la voglia di lavorare. Noi dobbiamo capire che oggi il vero problema non è quello della disoccupazione, ma è la voglia di lavorare che non c'è più. Oggi noi ci siamo stufati di pagare, 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 pagare e pagare, perché siamo delle vacche da mungere.